Carissimi amici della pagina degli amici della Pagnotomia, buona giornata, buona domenica e oggi barbata un po' non complicata però insomma proveremo il Muller 41 in questo caso in versione con il manico di resina rossa trasparente che si chiama Muller 103 con le elemente che sono state secondo me sono valutate da tanti rasatori che le considerano poco efficaci ma che in realtà non lo sono che sono le derby classiche derby extra queste sono lamette che costano pochissimo pacchetti A5 super stainless però con la lavorazione cromo ceramica platino tungsteno a polimero quindi voglio dire una lama anche abbastanza tecnica eppure molti rasatori la considerano una lama poco efficace vediamo la prova su uno dei rasoli considerato tra i più efficaci sul margato quindi andiamo subito ad armare la nostra attrezzatura derby per cui mi hanno chiesto come si scarta la lamette quindi prima i dati così e poi mai prendono mai a farla della italiente ovviamente e poi la si appoggia sul pettine questo vuole fare questo rasoio la si appoggia sul pettine sempre del lato non tagliente la si fa e poi si fa chiudere il pettine di questo mule r103 che non è altro che un mule r41 con il manico in resin trasparente rossa molto molto carino il manico trattarugato anni 70 insomma ecco potete vedere che la è veramente bello esposto spero che si veda io un po si vede meglio quasi comunque è esposto bene un piccolissimo pre barbaco ci bagniamo il viso oggi da oggi carichiamo video su youtube ma non perché io voglio andare su youtube perché facebook purtroppo mi dà dei problemi ogni tanto quindi potete fare su youtube che da facebook e poi passarlo su facebook quindi se volete seguire anche la pagina di youtube per favore io ormai mi sono appassionato su questo maiale coriaceo turco della zorex questo è messo messo a bagno una notte nella ciotola rock continui e vediamo ancora una infrascata riscaldata mettiamo un po di pre barba ma possiamo mettere un po di rasolina un po di rasolina che è un prodotto francese di morinar in realtà va bene sia come pre barba e come un po di rasolina ma solo perché cosa eravano i tre giorni allora crema da barba anche oggi voglia di agrumi agrumi del mediterraneo saponificio bignoli con i bignoli di oddio mi venuto un attimo di di agliate e agliate provincia di novara questa è una crema molto morbida quindi la cosa che bisogna fare è inserirla direttamente nel ciuffo ne prendiamo una quantità è buona come se la grumi la grumi a preme internazionale per i quelli mix inseriamo nel ciuffo un coriaceo che è stato veramente come dicevo io l'altra volta e andiamo e andiamo a montarlo in giocola vedete che è subito mamma mia bucce a differenza di altre creme di agrumi questa è la prima mi ricordo la buccia scorza del mandarancio aggiungiamo un po d'acqua comunque è già montato cosa sapete questo maiale qua è duro ma una volta che abbiamo piegato un attimo piegato nel senso nel senso ridotto mi dicono sì qui all'inizio è ingestibile ma poi diventa fantastico che monta da qualunque sono appena sveglio un po' di arrucino con i saponi duri è eccezionale ad esempio qui non parliamo una crema allora facciamo un'altra cosa bagniamo ancora un attimo il viso iniziamo il montaggio allora facciamo un'altra cosa e beh questa crema eccezionale bignoli crema piavantese la fanno in vari sentori i miei riferiti sono il sandalo e appunto questi volumi del Mediterraneo vediamo un po' d'acqua guardate che montaggio direi che siamo a posto prendiamo il pennello asciughiamo bene la mano asciughiamo la mano per evitare la mini green r41 la metta derby scorre bene diciamo che un po' si sente ma vedremo poi i risultati però scorre bene l'r41 che poi l'r103 le dà molta libertà di azione quindi la metta è chiamata a un lavoro diretto su una barba già dura e comunque perché tre giorni non sono pochi io ho sempre il naso per evitare i tagli qua ecco ecco dicevo alcuni rasatori molti rasatori non sono alcuni considerano queste derby l'arma è che non vanno tanto bene invece io devo dire che prima passata la data grazie anche al rosoglio e non ci vuole più niente una passata sola e c'è la derby qua non dico che sia affilata come una caio e una feder non lo so però sicuramente non è da sottovalutare ci acqua tirano il viso scogliamo un attimo la maglietta un'acqua sul pennello e via con il pennello brinco il costo di questa rametta veramente basso andate a vedere su qualsiasi store non anche su amazon per dire vedete che i pacchetti da 100 e mi ritirano sulla schiena tante volte che in abbinata in bundle a dei rasoi io quello che io l'ho trovato anche nei rasoi quindi si trova insomma non è una rametta difficile da trovare devo dire che mi sta dando delle soddisfazioni l'ho provata adesso che sono andato via un po' di giorni con il mercurio 34c altro rasoio chiaramente impeccabile proviamola con l'era 41 con la testa più forse la più aggressiva che c'è ecco forse ecco qua obliquo l'ho L'obbligo per me è più importante perché io ho tanto contrapene l'obbligo. Per chi ha la pelle come la mia, il vero contrapene l'obbligo. L'obbligo per me è più importante. L'obbligo per me è più importante. L'obbligo per me è più importante. Direi che qui abbiamo fatto tutto. E' più importante. Guardate. Canta e agisce. Si sente un po' distrattata forse dalla Tantin. Io nei forum così, nei blog, leggo, no? Ho letto negli anni anche giudizi strani perché io ad esempio le paragono un po' le astra verdi per dire. che sono ottime la vette. Io non noto ancora un po' di quanto è andato. Tantissima differenza, anzi, mi sembra che il risultato sia all'incirca simile. con un R41, quindi, voglio dire, un rasoio assolutamente efficace. ma anche con rasoi più docili, come appunto il 34C, per dire della merda. Facciamo ancora un giro di contrapelo, ma non c'è più niente, non solo per l'accademia. Un colpo caldo, acqua nel pennello, scornevolezza. Non ce ne sarebbe neanche bisogno, eh? Montaggio leggero, qui. Montaggio leggero. Montaggio leggero. Ecco qua. Scorre a Evole. Io così, io sembro contrapelo, così. Tanto non c'è più niente. Se uno ha fatto bene il pelo per obliquo, contro pelo, proprio, andiamo proprio a... a rifinire. Perfetto. Questo è un BBS, ragazzi. con queste, veramente, derby extra. Ricerquata. Ricerquata. Asciughiamo. Asciughiamo. Ecco bene. Tamponando, sempre. Ricchiudiamo il fantastico Bignoni. E con me la nuova barba, con le toilette, arancia italiana, di extra-cosmese. Agrumi sovrumi. Guarda che buona. Guarda che buona. Molto bene. Ottimo prodotto, anche questo. Arancia italiana, di extra-cosmese. E con pelle delicate, questo qua. Ora, niente, esame superato per la derby extra. Rasoio, voglio dire, non ha bisogno di presentazioni. Questo è il Muller 41. Considerato, forse, il più efficace che c'è sul mercato. E niente, io vi saluto tutti, vi ringrazio e vi auguro buona domenica. E vi aspetto di nuovo sulla pagina degli amici della prognatomia, che adesso si sdoppierà, per motivi tecnici, soprattutto. E quindi, se volete mettere un like, anche lì, grazie. Buona domenica.